Buongiorno a tutti dal vostro grande capitale Napoli e benvenuti in questo nuovo video. E' sempre Forza Napoli. Il giorno dopo Napoli-Udinero dove Napoli ha vinto in extremis per 2-1 con grandissimo gol di Politano, bellissimo tiro a giro di sinistro, palo gol del limite dell'area di rigore, andiamo a analizzare velocemente la partita di ieri. La cosa più positiva è il risultato, la prestazione sinceramente, sono sincero, non mi è piaciuta tanto. Secondo me quanto noi avevamo i capovolgimenti di fronte, che noi avevamo la palla, secondo me quanto dovevamo attaccare, dovevamo sfruttare molto di più i nostri esterni. Infatti ad esempio il gol dell'1-1 è stato sfruttato sull'esterno, quando c'è stato il passaggio di Calegion verso il centro, Emili è stato molto bravo e spaccata a fare il gol del momentaneo 1-1. Stavamo perdendo un azale, quindi alla fine Napoli ha avuto carattere, comunque che sullo 0-1 ha rimontato dallo 0-1, da uno palo di carattere, comunque non mi è piaciuta tanto la prestazione. Comunque purtroppo non è una scusante quanto arrivi verso la fine della stagione, non hai del campionato, non hai nulla da giocarti. È quell'importantissima partita di Champions League, purtroppo può capitare che la concentrazione, la massima determinazione viene meno. Comunque l'infortunio di Mertens, sono quasi sicuro, non è nulla di particolare. La partita con il Barcellone giorno più, giorno meno, è tra una ventina di giorni, quindi molto probabilmente sarà pienamente recuperato. Infatti io col Parma non lo rischierei. C'è anche Milik che ha fatto il gol, era diffidato, ha preso il giale, sarà squalificato. Io ho molta fiducia di Lozano, che potrebbe giocare tra virgolette come Falso Nueve, come ha giocato per un lungo periodo Mertens. Questo ruolo l'ha giocato molto spesso nel PSV, dove come prima punta, come seconda punta, quindi alla fine giocava a Parma, ma anche il Parma non ha nulla da chiedere il campionato. Potrebbe eventualmente essere un tridente con Insigne, Lozano punta centrale, Cali Jo, oppure Politano, che l'ho visto in grande spolvero. Oltre al gol che ha fatto decisivo anche nelle ultime partite, vedo che sta crescendo man mano, probabilmente questo gol lo ha sbloccato. Mettete un bel like a questo video, sempre, e comunque Forza Napoli, un ringraziamento a tutti quelli che si stanno continuamente iscrivendo al mio canale, grazie, grazie, e chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Una buona giornata dal vostro grande Capitano Napoli, sempre Forza Napoli, ciao! Grazie a tutti i nostri spettatori e 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 i nostri spettatori.